Ciao a tutti e bentornati da Karin, oggi andremo insieme a vedere un sacco di video dei nuovissimi Rainbow Friends capitolo 2 I giocattoli di Rainbow Friends Come sono stati realizzati i suoni di Rainbow Friends nella vita reale Come sarebbe giocare il gioco dal punto di vista di Saiyan Ma anche dal punto di vista di Yellow Ci andremo a vedere anche i bellissimi pancake di tutti quanti i personaggi del capitolo 2 Non vedo l'ora di vederli E anche un sacco di disegni tutti dedicati al capitolo 2 di Rainbow Friends In più ci andremo a vedere anche tutti i segreti e gli easter egg del gioco Quelli più nascosti che nessuno è riuscito a vedere Quindi rimanete con me fino alla fine per non perdervi niente di tutto questo E andiamoci subito a vedere i bellissimi giocattoli super nuovissimi dei Rainbow Friends Non so voi ma io non vedo l'ora di vedere come sono stati realizzati E secondo me sono veramente delle bombe atomiche Ovviamente il nostro bravissimo creatore li ha modellati tutti in 3D al PC Guardate quanto è bravo Ci avrà messo tantissimo tempo Ma piano piano smuovendo tutto, decidendo le forme Guardate che meraviglia Adesso sta realizzando il nostro preferito Beh lo so Saiyan è il preferito di tutti quanti Alcune persone pensano che si pronunci Sian altre Cian In realtà in italiano sarebbe Ciano ma in inglese si pronuncia Sian Se andate su Google traduttore sentirete proprio dire Sian, Sian, Sian Ascoltate Comunque eccoli qua tutti e tre modellati Abbiamo blu sul suo trono La testolina Lukis di Red, Yellow e Sian Dopo essere stati tutti modellati in 3D Guardate che meraviglia Vengono messi sui loro piedistalli e stampati Ma una volta stampati ovviamente non saranno pronti Perché dovranno essere tutti quanti colorati E andiamo a vedere anche la realizzazione del colore Fatemi sapere se anche voi avete una stampante 3D a casa Scommento che non ce l'ha quasi nessuno Ma so che qualcuno di voi ce l'ha Perché mi avete mandato un sacco di creazioni Fatte con i vostri genitori Proprio fatte con la stampante 3D Le stampanti 3D costano un sacco di soldi Occupano anche un sacco di spazio E poi ci vogliono tantissime ore di lavoro Per realizzare queste bellissime creazioni Ma se anche voi siete creatori Create con il pongo, disegni, con la carta Ricordatevi che potete mandarmi tutte le vostre creazioni su Instagram E io le ricondividerò Abbiamo visto tutta la creazione La colorazione di blu sul suo trono E adesso avete visto chi sta facendo È proprio Yellow Yellow è un mostro spaventoso Ma dal quale possiamo salvarci nel gioco Ho fatto anche uno shorts Per farvi vedere come salvarsi da Yellow Poi andatelo a vedere Ma passiamo ora alla colorazione di Saiyan Che è bellissimo Saiyan è il mio mostro preferito Per chi non lo sapesse È una femmina Infatti Red da un certo punto nel gioco La chiama She Quando parla di lei che guarda la ladybug Cioè la coccinella Pensavamo tutti all'inizio che fosse un maschio Invece no È una femminuccia E per ultimo ma non per importanza Abbiamo i Lookies Anche chiamato teste di Red Sembrano tantissime testoline di Red Che noi dobbiamo raccogliere nel capitolo 2 Di Rainbow Friends Per superare una notte Beh eccola qua finita È venuta super carina La vorrei di tutti i colori Gialla, rossa, blu, rosa, verde E guardate anche Yellow finito È venuto benissimo Vi giuro che vorrei tutte queste action figure Perché sono una più bella dell'altra Incredibile Questa è blu Alla fine del gioco Non so se ci siete arrivati Blu è sul suo trono che dorme Chissà che cosa farà nel terzo capitolo Comunque Saiyan è bellissimo Saiyan stai stupenda Ti amo Sei meravigliosa Con quella bocca gigante Saiyan è un mostro Al quale dobbiamo stare molto attenti Perché può prenderci Anche dentro la scatola Se fate rumore Lei vi sentirà E vi prenderà Invece Yellow Per quanto possa essere pericoloso Sempre meglio sceglierlo Tra lui e qualsiasi altro mostro Meglio scegliere Yellow Perché da Yellow ci si può liberare Buttandosi sul gommone elastico Sul gonfiabile E poi abbiamo blu Guardatelo Guardatelo come dorme sul suo trono Beatamente Se non l'avete ancora fatto Lasciate mi piace Iscrivetevi al canale E fatemi sapere Quale di quelle action figure Vi è piaciuta più di tutte E ora Andiamo ad ascoltare Come vengono creati I suoni Di Rainbow Friends L'elica E le ali di Yellow E anche il verso Di quando ci fa fuori La parte finale I carrelli Questi sono i carrelli Dentro la caverna Di Orange Per chi non fosse arrivato A questo punto Questo è veramente Il finale Prima di scappare Da Saiyan E poi abbiamo i Lucas Sono gli esseri più cute Del mondo Fanno un versetto super carino E questo è Purple Sono le sue mani Che fanno questo rumore E ora Saiyan Ve l'ho detto Che vi prendeva anche Nella scatola E la Zipline Questa è utilissima Per fuggire E anche per attraversare La mappa In modo molto Molto più veloce Blu Servono un sacco di cose Per fare blu Sei suoni Siamo già al sesto Beh possiamo dire Che blu Fa veramente Un sacco di rumore Effettivamente nel gioco È molto inquietante Perché senti sempre Tutti questi rumori Che arrivano da tutte le parti E sono abbastanza spaventosi Ma ora è il momento Di andarci a vedere Come sarebbe Giocare Ma dal punto di vista Di Saiyan Sentite Questo è il rumore Che faceva il ragazzo Di prima Mentre stava ricreando I suoni reali Del gioco Sono i suoi denti Cha 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 Ogni volta che cammina Sbatte Mandibola E mascella Così E fa un rumore Infernale Beh Non sarebbe male Giocare dal punto di vista Di Saiyan Secondo me Sarebbe Interessante Almeno non avrei paura Però Dovremmo sopportare Tutto il tempo Questo rumore Davvero Questo rumore È all'inferno C'è anche Orange Beh Orange Purtroppo nel gioco Non si vede mai Tranne nella sua caverna Quando dobbiamo Curvare Per evitarlo Vabbè Direi che abbiamo capito Come sarebbe giocare Dal suo punto di vista Ma io voglio vedere Anche come sarebbe Giocare dal punto di vista Di Yellow Ciao ciao Saiyan Sei molto carino Ma anche un po' Spaventoso Ed eccolo Abbiamo anche Yellow Con le sue alucce Ha delle ali Troppo piccole Per volare Quindi non ce la fai Li serve questa super elica Sulla schiena Altrimenti come farebbe A portarci via Quelle ali Non reggono Né il suo peso Né il nostro Ogni tanto si blocca E poi va via Va via con Le alucce Messe così È super carino Yellow Per quanto possa essere Spaventoso È anche super carino Ma come fa Non so se sia più bello Saiyan O se sia più bello Yellow È un combattimento Ad armi pari Sono entrambi Meravigliosi Quindi fatemi sapere voi Qual è il vostro personaggio Preferito Tra quelli nuovi Ci sono anche i Lukis I Lukis sono carini Però non sono spaventosi Ma tra tutti questi personaggi È difficile scegliere Il più bello In assoluto Lo sapevate Che il mio preferito In assoluto Del primo capitolo Era Orange Però adesso è difficile Scegliere Forse adesso È Saiyan Non lo so Comunque Il punto di vista Di Yellow È molto interessante Tra l'altro Si vedrebbe Tutto il tempo In primo piano Quest'elica gigantesca Un po' disturbante Alla vista Però Veramente bellissimo Voglio vedere Quando vola E porta Al nido I personaggi Eccolo Sta volando Vedete Vola 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 Ora dovrà passare Per forza Sopra il gommone Elastico Eccolo Quando passa qua sopra Voi dovete saltare E buttarvi In modo tale Da potervi salvare Una volta per tutte E qua distrugge Spezza ai mille pezzi La persona Che ha catturato Ma come promesso Adesso è il momento Di andarci a vedere I pancake Oggi vedremo Tutti i pancake Di tutti i personaggi Di Rainbow Friends Capitolo 2 Come potete vedere Il primo personaggio pancake È blu Quindi stiamo a vedere Come viene fuori Secondo me Sarà meraviglioso Dovrebbe anche Essere super buono Da mangiare Ma secondo voi Che sapore Potrebbe avere blu Ditemelo qua sotto Nei commenti Vediamo se avete Delle buone idee Essendo che è di colore blu Non lo so Cosa esiste di blu Mi viene in mente Solo cibo viola Ma cibo blu Non lo so proprio Di blu Conosco solo Il gelato al puffo Che è super dolce E super buono Il secondo mostro di oggi Riuscite a indovinare Chi è Prima che finisca Avete 3 secondi di tempo 3 2 1 Vediamo se avete indovinato Ebbene sì Se avete scritto green È proprio lui Green è il personaggio Preferito di tantissime persone Anche se il poverino È cieco Lui non vede nulla E vi prende Solo se li passate Troppo troppo vicino Quindi mi raccomando Per non farvi prendere da lui Dovete sempre Starli Alla larga Anche perché Ha delle braccia Molto lunghe E rischia sempre Di prendervi Super pericoloso Camminarli Troppo Vicino Sì Giriamolo Giriamolo E voglio vedere Come è venuto È perfetto Mi piace tantissimo Ma passiamo subito Al prossimo mostro Vediamo chi è Il prossimo mostro È il mio preferito È Orangio Guardate quanto è carino Questa versione così In piedi Con la boccuccia aperta Non vedo l'ora di vedere Com'è Veloce Cuoci Cuoci Il momento delle bolle Wow È troppo Satisfying È bellissimo Soddisfacente Mi piace un sacco Giralo 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 Facci vedere com'è Orange Sei il più bello In assoluto È inutile Non c'è nessun mostro Che lo supera È il più carino Di tutti Sarà che è piccolo Con quegli occhioni Ma mi piace veramente troppo Il prossimo mostro È un mostro Che in realtà Non è neanche un mostro È più uno scienziato Ed è Red Quello che Ci dice cosa fare Essenzialmente Ogni volta ci dice Dove andare Cosa fare Perché Come Ma cosa vuole da noi L'abbiamo ancora scoperto Essenzialmente no Bolle 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 E ribolli Che le bolle sono belle Ma ne ho fatte pochissime Oh Deludente Giralo Facci vedere il risultato È stupendo Anche Red è venuto super bene Ma io non vedo l'ora Di vedere i nuovi mostri In questo capitolo Abbiamo visto Purple Da più vicino Cioè Un Purple Che ci mangia letteralmente E che sbatte le mani Per tutto il labirinto Lui sta in un labirinto Pieno di nebbia Qualcuno pensava fosse neve Ma non è neve È nebbia Nebbiolina La nebbiolina E lei si chiama Cyan Ma quanto è cute Con le alucce Messe così Beh questi sono Tutti quanti I pancake Bellissimi Che abbiamo fatto oggi E sono tutti Spettacolari Non saprei Quale scegliere Perché sono veramente Tutti meravigliosi Ma forse Il mio preferito Rimane orange Voi fatemi sapere Qual è il vostro pancake Che ho preferito Quello che secondo voi È venuto meglio di tutti E adesso Andiamo a vedere I disegni Questa volta Saranno disegni In versione cartoon E poi in versione realistica Dei nostri personaggi preferiti Di Rainbow Friends Capitolo 2 Cyan cartoon È dolcissima Super carinissima Ma non vedo l'ora di vederla Anche in versione realistica Secondo me Sarà ancora più bella Beh per farla realistica Ci vuole molto più tempo E molte più sfumature Ma guardatela Con la bocca spalancata Pronta a mangiarci È venuta molto molto bene Con i punti luce La bavetta È ancora più bella Mi piace veramente tanto Ma il prossimo mostro È Yellow Yellow cartoon Ma guardate che carino Vorrei tatuarmelo Ve lo giuro Voglio un tatuaggio Super colorato Con Yellow Lo amo È stupendo E adesso Versione Arrabbiatissima Con la bocca spalancata Iper realistico Beh mi fa già paura Anche se non ci sono ancora I neri e i bianchi E non è ancora finito Già vedo che è spaventoso Guardate Guardate la bavetta Che scende dai denti Tutta bianca È stupendo Ma come fa a disegnare così bene Beh se anche voi Siete dei grandi disegnatori Ricordatevi che potete mandarmi Tutti i vostri disegni Su Instagram E li ricondividerò tutti E guardiamo anche Blu sul trono Mentre dorme Beatamente Prima in versione cartoon È venuto super bene Adesso vediamo La versione Realistica Ovviamente È stupendo Anche nella versione Realistica Abbiamo anche Green In versione cartoon Con le sue braccia Super mollose Lunghissime E Nella versione Realistica Anche per lui È venuto super bene Guardate con i bianchi E Ad esser Difficilissimissimissi Difficilissimissi Troppo Scegliere quello più bello Perché sono tutti e quattro meravigliosi secondo me Anche se Yellow versione cartoon Forse è il più bello di tutti In assoluto Ma moltissimi di voi si staranno chiedendo Ma dove va a finire Saiyan Dopo averci rincorso Beh andiamolo a vedere in questo video Saiyan se ne va Fa retromarcia e torna indietro perché non può Superare le sbarre E questo è tutto il percorso Che fa lui Come sarebbe vedere Tutta la rincorsa gigante Che abbiamo fatto per sfuggirli Ma dal suo punto di vista Cioè come vede Saiyan Noi fuggire Ecco è proprio così Sentite i suoi denti Cia 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 Pronti a Strangugiarci Oh E una volta che ci mangia Oppure non riesce a raggiungerci Torna indietro Se ne torna a casa Continuando a smandibolare Clo 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 Ma dove andrà Probabilmente tornerà a casa sua Ma ho trovato anche questo video Bellissimo che ci fa vedere Tutti i segreti del gioco Qui c'è un codice segreto Che si è inserito Guardate un po' Wow Lo sapevate che inserendo questo codice Potevate attivare Il nastro trasportatore Il codice è 1 972 Segnatevelo così potrete far vedere ai vostri amici Che si può attivare Si può attivare il nastro trasportatore E ci potete montare sopra E cominciare a girare 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 Fatemi sapere nei commenti Se sapevate già Questo trucchetto E passiamo al prossimo Questo si chiama Monster section Guardando attentamente Si può vedere Nella mappa Guardando verso l'alto Tutte le sezioni Che appartengono Quindi ogni personaggio Sostanzialmente Ha la sua zona adibita Questo sembrerebbe Una casetta Per curarsi Il castello di blu Lo conosciamo tutti benissimo L'abbiamo Largamente esplorato C'è anche il suo trono dentro Il labirinto di purple È super spaventoso E pericoloso E la caverna di orange È il gran finale Andiamo avanti E vediamoci Il prossimo easter egg Guardate un po' Su questo calendario È segnato Il primo luglio Secondo voi Perché è segnato Il primo luglio? Vediamo se Riuscite a capirlo Chissà E qua C'è un altro messaggio segreto Sulla lavagna C'è scritto Shower Saren't working Vuol dire La doccia non funziona Call number Chiama il numero Change garage code Cambia il codice del garage Ma i messaggi segreti Nel gioco Non sono finiti Perché all'interno Di questa caverna Ne troverete un altro Accucciatevi Entrate dentro la scatola E mettetevi un po' indietro E state a vedere C'è un altro messaggio segreto Qua Ma attenzione Nella mappa Troverete anche questo Un piccolo pupazzetto di blu Un mini blu Messo lì Dentro una scatola Abbandonato a se stesso Ma quanto è carino L'avevate visto Fatemi sapere se tutti questi segreti Li sapevate già O se grazie a me Li avete scoperti Beh questo video Secondo me È bellissimo E state a vedere Questa è una cosa segreta Nel gioco Se non prenderete tutti i lookies In tempo Non importerà C'è un tempo limite Per prenderli Ma se non li prendete Non succederà niente di male Red semplicemente farà esplodere Questi fuochi d'artificio E non succederà assolutamente nulla Il gioco andrà avanti Potrete passare Alla notte successiva Ebbene sì L'ultimissimissimissimo segreto Del gioco è questo Forse non ci avrete fatto caso Ma qua ci sono I robot Di tutti i mostri Probabilmente Questi erano i robot Che venivano mandati In giro per il Luna Park Per divertire i bambini Prima che i mostri Diventassero mostri Se tutti questi segreti Questi easter egg Tutte queste creazioni Ti sono piaciute Fammelo sapere nei commenti Lascia mi piace Iscriviti al canale Noi ci vedremo nel prossimo video Ciao